basta così non pensavo assolutamente di fare musicista non era nei miei piani non avevo piani il futuro si prospettava abbastanza orribile perché a scuola davo male avrei dovuto sicuramente lavorare in questa azienda di famiglia si occupava di trasporti internazionali già cominciavo a lavorarci era orribile non una cosa che non c'era l'idea di fare tutta la vita quel lavoro non hai mai avuto veramente maestri mai 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 credo c'è 56 maes a torino e lì io sono rimasto più folgorato perché se già a quel punto lì era il mio musicista preferito vederlo dal vero giovane bellissimo era una cosa pazzesca quindi ho avuto voglia di suonare sto strumento sono procurato uno e ho cominciato a impararmelo da solo a casa copiando dai dischi le cose più semplici tipo uno dei dischi dove io ho copiato tantissimo è bluehaze di maes davis finché in una jam session ho conosciuto gatto barbieri che era appena arrivato in italia e lui mi ha detto ma perché non ti metti a suonare per davvero invece ti metti a studiare un po e difatti un bel giorno mi dice bene partiamo per roma di come avevo appena divorziato dico vengo anch'io questa parentesi tragedia familiare mio padre non ti dico la scena comunque volevamo semplicemente stare insieme e divertirsi quindi fu un viaggio base di canzonette canzonacce l'abbiamo fatta tutta cantando a squarciagola no dalla gioia per nove mesi ho suonato lì con gatto con d'andrea che era straordinario grazie a tutti